carissimi amici siamo qui a montorsi e la chiesa di san giuseppe questo quartiere campestre della zona rurale di gioia verso la terza dieci chilometri da bari eccoci in questo pomeriggio qui nevato nel bosco che potete notare non siamo in trentino non siamo sulle dolomiti siamo a 10 chilometri da gioia e colle provincia di bari e 10 chilometri da gioia e 40 chilometri da bari ecco questo l'albero sotto cui sto filmando uno spettacolo straordinario della natura al tramonto fa un effetto anche particolare vedo un albero in fondo spezzato dal peso della neve che qui è stata abbondantissima siamo sulla linea verso la terza tra san termo e la terza e quindi possiamo dire un po il clou del picco della neve eccoci di nuovo dopo una carellata intorno alla chiesa qui si festeggia san giuseppe lavoratore primo maggio questa chiesa è stata voluta edificata negli anni 50 60 in piena guerra fredda che si faceva sentire anche a gioia dal compianto arciprete don frango di maggio fu edificata come segno della presenza della chiesa in questo luogo di tante famiglie che abitavano qui nel dintorno con le loro masserie e che a tuttora producono molto latte e carne e quindi la granarolo ecco si spiega la presenza della granarolo a gioia del colle che lavora il latte il raccolto in questi in questi luoghi questi paraggi ecco una macchina potete vedere lo scenario straordinario di bellezza siamo al mercoledì 11 gennaio da gioia del colle da montursi frazione di gioia del colle arrivederci a tutti gli amici e al prossimo reportage ciao don innocenzo vi parla vice parroco della chiesa madre